Musica Buongiorno, bentrovati al TG2000 Subito i titoli di questa edizione di Mezzogiorno Elezioni amministrative a Roma Ballottaggio, raggi, giacchetti A Milano, testa a testa fra Sala e Parisi A Napoli, in testa De Magistris Ma a sfidarlo sarà il candidato del centrodestra Lettieri Ma qual è adesso lo scenario politico che si apre al trionfo dei 5 stelle? Corrispondono le preoccupazioni del PD Mentre il centrodestra appare diviso e recriminante Le reazioni al voto di ieri le sentiremo E le manovre per i ballottaggi No al reddito di cittadinanza La Svizzera boccia il referendum per dare 2000 euro a tutti E si riapre il dibattito sul reddito minimo senza lavorare La messa del mattino a Santa Marta Le beatitudini sono il navigatore del cristiano Orgoglio, vanità e ricchezza L'antilegge che porta alla perdizione Parola di Papa Francesco Questi titoli in apertura ai risultati Allora definitivi del primo turno Alle elezioni comunali Dalle urnesce una netta affermazione Del Movimento 5 Stelle Un partito democratico in affanno Un centrodestra che paga le divisioni Tra i suoi leader Gli ultimi dati quando mancano ancora un centinaio di sezioni Da essere scrutinate A Roma il 35% Alla Raggi A Milano il 41% A Sala Ma tutti i numeri li vediamo subito Nel servizio di Federico Plotti Vediamo Tutte le città principali In cui si votava in questa amministrativa 2016 Andranno al ballottaggio Solo Cagliari è in controtendenza Il capologo Sardo ha già il suo primo cittadino Il sindaco uscente Massimo Zedda Che con oltre il 51% dei voti Ha sbaragliato la concorrenza direttamente al primo turno E da nord a sud andiamo a vedere Quali saranno i testa a testa Per i ballottaggi del 19 giugno prossimo A Torino il sindaco uscente Piero Fassino Centrosinistra con oltre il 41% dei voti Non ce l'ha fatta al primo turno E fra due settimane Se la dovrà vedere con Chiara Appendino Del Movimento 5 Stelle Scelta da oltre il 30% dei torinesi Nemmeno a Bologna Il sindaco uscente del PD Virginio Merola ce l'ha fatta al primo turno E' stato scelto dal 39,4% dei bolognesi E sfiderà la leghista e candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni Che ha ottenuto il 22,27% delle preferenze A Roma questo primo turno Lo stravince la pentastellata Virginia Raggi Con oltre il 35% dei voti E andrà al testa a testa del 19 giugno Con Roberto Giacchetti Centrosinistra Che ha ottenuto il 24,7% dei voti Non ce l'hanno fatta ad andare al ballottaggio Né Giorgia Meloni Fratelli d'Italia Appoggiata da Matteo Salvini e dalla Lega Che ha ottenuto il 20% delle preferenze E anche Alfio Marchini Sostenuto anche da Forza Italia Con il 10,7% Più staccato il candidato della sinistra radicale Stefano Fassina Con il 4,4% A Napoli il sindaco uscente Luigi De Magistris Non riesce a confermarsi al primo turno Con il 42,54% dei voti Affronterà al ballottaggio il candidato del centrodestra Giovanni Lettieri Scelto dal 24,9% dei napoletani E dunque al di là dei numeri Un voto che spiazza Vediamo allora come sta reagendo il mondo politico A questo nuovo assetto Le voci dei protagonisti raccolte da Augusto Cantelmi Ascoltiamole Un risultato storico Così Beppe Grillo commenta la vittoria Alla primo turno di Virginia Raggi a Roma Il Movimento 5 Stelle Lento ma inesorabile Raggiunge Grillo Mentre Virginia Raggi non nasconde la sua soddisfazione È un momento storico È vero è solo il primo tempo È solo il primo tempo e ci sarà poi comunque un rush finale Però è un momento storico È un momento importantissimo Sia perché potrei diventare il primo sindaco donna di Roma Sia perché i romani Hanno fatto chiaramente intendere Di non credere più Alle promesse Agli slogan elettorali Delusione invece nel partito democratico Fuori dal ballottaggio a Napoli E non sfonda nelle altre città Dove con i suoi candidati Era favorito come Bologna e Torino Per il sindaco uscente Fassino Che guarda comunque con fiducia Al ballottaggio con la pentastellata Chiara Appendino Il voto riflette una situazione di crisi sociale Nel centro-destra invece È il momento della resa dei conti Dove si è presentato diviso Le cose sono andate nel peggiore dei modi Fuori dal ballottaggio a Roma Con Meloni e Marchini Mentre Unito ha ottenuto ottimi risultati Come quelli di Milano con Parisi E Napoli con Lettieri Per il leader della Lega Salvini Berlusconi ha sbagliato tutto E ora il nodo delle alleanze In vista dei ballottaggi Si comincia dunque a ragionare Su quali ripercussioni Il voto avrà anche sulla scena politica nazionale Pierluigi Vito ha raggiunto Tre firme del giornalismo Ascoltiamo il loro commento Io credo che ciò che risalta È la frammentazione politica del Paese Ovvero nelle maggiori città Ci sono risultati in bilico Che nascono da situazioni politiche Ognuna delle quali è specifica E nessun partito può dire Di aver vinto questa tornata elettorale Non ha vinto il PD Non ha vinto 5 Stelle Perché a Milano non è neanche entrato al ballottaggio E non ha vinto il centrodestra Quindi la realtà vera È che il Paese si è espresso E ha espresso Un'identità frammentata Questa è la nuova realtà Di fatto Con la quale tutte le forze politiche All'opposizione O nella maggioranza Devono fare i conti Questi voti sono voti decisivi Per il ballottaggio Perché ormai il problema Non è che la performance in prima andata È il problema è capire Come si ricomporranno dal ballottaggio Le geometrie dei voti Ed è evidente che È possibile Che i 5 Stelle Potrebbero votare Diciamo a destra O meglio la destra Che vota 5 Stelle Anche se per esempio In Pologna c'è questa possibilità Contro il PD Cioè il PD Sembra a me molto isolato Un ballottaggio Questo andamento del primo turno Il Premier ha detto Non avrà influenze sul governo Potrebbe averne All'interno del partito Beh Di questi momenti Mi pare La dichiarazione di Speranza Che dice Che il PD Ha bisogno di un segretario A tempo pieno Se una ronda Ne fa primavera Mi sembra Che è tanto da tanto Ecco Il partito È l'astenzione Che cresce sempre più Quanto ormai È fisiologico E quanto patologico La diminuzione Degli italiani Al voto È dovuta Negli ultimi anni È dovuta Soprattutto A due elementi A livello Impressionante Di corruzione Che fa pensare Sempre di più Agli elettori Che sia inutile Scegliere Ma anche al fatto Che da noi La Diciamo Il superamento Del voto Fortemente ideologico È arrivato Soltanto Negli ultimi 15 anni Questi sono due aspetti Che mi fanno pensare Che sarà difficile Rivedere percentuali alte Speriamo Che però Resti Quanto meno Questo livello E non scenda ulteriormente Perché in alcuni casi Comincia a diventare Veramente allarmante Del voto di ieri Delle ripercussioni Indicate dal popolo Continuano a parare Nelle prossime ore Anche per chi ha attesa La conferenza stampa Del premier a minuti La politica Intanto però Piange La scomparsa Dell'eurodeputato Della Lega Gianluca Bonanno Scomparso ieri Tragicamente In seguito A un incidente stradale Prima esponente Di alleanza nazionale Poi passato Al carroccio Era stato anche Sindaco In alcuni comuni Del Vercellese Ieri pomeriggio L'auto a bordo Della quale era La guida Ha tamponato Un'altra auto In avaria Lungo la Pedemontana Bonanno È morto È morto Sul colpo Mentre la moglie È seduta Al posto Passeggero È grave Ma non in pericolo Di vita Il parlamentare Cinquantenne Lascia due figli Unanime Il cordoglio Nell'ambiente politico Per questa tragedia Della strada Di politica Continuiamo a parlare Uno dei cavalli Di battaglia Della proposta Politica Del Movimento Cinque Stelle Dunque fresco Dei trionfi elettorali Che abbiamo visto Al primo turno Delle amministrative E il reddito Il cosiddetto reddito Di cittadinanza Qui da noi si discute Della sostenibilità Del progetto Ma c'è un paese Che ha indetto Un referendum Per decidere Se applicarlo O meno È la Svizzera Scopriamo come è andata Con Antonio Soviero L'idea dei promotori Del referendum Era cambiare La Costituzione Assegnando Un reddito Di base Incondizionato Per tutta la vita Di circa 2250 euro Al mese Per gli adulti Poveri e ricchi E 560 Per i minorenni Ma gli svizzeri Hanno detto Non se ne parla proprio E l'hanno fatto Con il 76,9% Dei voti Nessuno dei 26 Cantoni elvetici Ha approvato Il testo proposto Da un gruppo indipendente Che voleva sostituire Con il reddito minimo Per tutti Non tassato I vari strumenti Di welfare Attualmente attivi Il governo di Berna Si era subito Dichiarato contrario All'iniziativa E aveva stimato Un costo federale Di 25 miliardi Di franchi Anche le altre forze Politiche di destra E di centro Avevano espresso Un no secco Qualche consenso Solo tra la sinistra Rosso-verde Eppure Nonostante il voto Negativo di ieri Il portavoce Dei promotori Wagner Parla di successo Ci aspettavamo Ci aspettavamo Afferma Il 15% Dei voti Invece siamo andati Oltre il 20% Questo significa Che gli svizzeri Vogliono che il dibattito Sul reddito minimo Continui Il weekend elettorale Ci riporta Allora in Italia Ve lo anticipavo Era attesa Minuti La conferenza stampa Del premier Renzi Sulle ripercussioni Del voto di ieri Lo vedete È in diretta Allora Andiamo ad ascoltare Per qualche secondo La chiave di lettura Del premier Alle elezioni di ieri Ascoltiamo Il PD da anni ormai Non riesce A affrontare bene Se guardiamo I dati Della Campania Noi vinciamo Al primo turno A Salerno E andiamo Molto bene A Caserta Dunque Non esiste Un problema Campania Esiste un problema Napoli Su Roma Il mio giudizio È che Roberto Giacchetti Abbia fatto Un mezzo miracolo E quindi Onore al merito Di Bobo Ha fatto una campagna Molto 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 Difficile E però Tuttavia C'è È in campo È lì E quindi La partita Se la giocherà Al ballottaggio Come se la giocheranno Al ballottaggio Negli altri comuni Dove si voterà Da Milano A Torino A Bologna Credo a Trieste A questo punto E negli altri comuni In cui il PD Sarà al ballottaggio Qual è L'elemento Chiave Che dobbiamo Utilizzare Che A mio giudizio Gli elettori Sanno scegliere Dobbiamo prendere Atto di questo Non c'è più Un voto Omogeneo E articolato Per cui Tu prendi E decidi O tu fai questo O tu fai quest'altro Gli elettori Fanno zapping Con la scheda elettorale Con la scheda elettorale Come è sacrosanto Che sia Come è bello Che sia Come è doveroso Che sia Se un candidato Li convince Li vota Se un candidato Non li convince Non li vota Punto Non c'è da fare Grandi filosofie Politiche Dibattiti Gli elettori Sanno scegliere Allora avete sentito Gli elettori Sanno scegliere Non c'è un voto Omogeneo Gli elettori Fanno zapping Così il premier Renzi Che sta parlando In questi istanti E vi riferiremo Naturalmente Dei contenuti Del suo intervento Noi andiamo avanti Con il giornale Andiamo all'estero Orrore In Iraq Dove i miliziani Dell'Isis Stanno sparando Sui civili Che tentano Di fuggire Dalla città Di Fallujah Roccaforte Della Jihad A 50 km Da Baghdad Le notizie Arrivano Da una ONG Norvegese Impegnata In prima linea Secondo cui I civili Stanno cercando Pericolosamente Di uscire Via fiume Della città Nascosti In armadi E frigoriferi Sempre la stessa fonte Riferisce che sarebbero Almeno 50.000 I civili Ancora ostaggio Dell'Isis Da almeno due anni E stamattina Le forze di sicurezza Iraqene Hanno scoperto Sempre a Fallujah Ma in una zona Liberata dai miliziani Una fossa comune Con oltre 400 Cadaveri Uccisi Dal gennaio Scorso Identico filone Riconducibile a Salvatore Buzzi E Massimo Carminati Patron del giro Denominato Mafia Capitale Un meccanismo Con ramificazioni Fino al Siracusano In particolare Le irregolarità rilevate Risalgono agli sbarchi Del 2013 Le fiamme gialle Contestano agli indagati Requisiti Fiscali Tipici proprio del Non profit Questo perché Le presunte ONG Operavano come vere e proprie Imprese commerciali Tutte false Le fatture per I servizi di pulizia Capi di abbigliamento E beni alimentari Come pane E frutta Una notizia di calcio L'Inter Comprata dalla Cina Passa Alla Suning Il colosso Degli elettrodomestici Cinesi La società sportiva Di Milano Oltre il 68% Nelle mani Dunque Della Cina Contemporaneamente L'addio Da parte Di Massimo Moratti Vediamo Ora è ufficiale L'Inter è cinese L'annuncio È stato dato A Nanchino In una conferenza Stampa congiunta Tra i vertici Della squadra E la Suning Il colosso cinese Degli elettrodomestici Di Zhang Jingdong Che diventa Il nuovo proprietario Dell'Inter In base all'accordo La Suning Acquista il 68,55% Della società Nerazzurra Per 270 milioni Di euro L'attuale azionista Di maggioranza Eric Toir Rimane azionista Unico di minoranza E mantiene Il ruolo di presidente Della società Nerazzurra Esce definitivamente Di scena Invece Massimo Moratti Che cede la sua quota E dopo 20 anni Lascia l'Inter La Suning È uno dei più grandi Gruppi privati cinesi Una multinazionale Degli elettrodomestici Da 24 miliardi di dollari Con 1600 punti Di vendita In Cina Ed orientato Ad investire Anche nel commercio Mondiale Online Il gruppo Quotato in borsa È già proprietario Di una squadra di calcio È lo Yang Su Di Nanchino Che milita Nella massima divisione Del campionato di calcio Cinese Siamo alla messa del mattino Ergoglio Come le abititudini Sono gli scalini Che portano avanti Nella vita Così i tre scalini Dell'antilegge Portano invece Alla perdizione Come la vanità Che tutti parlino Bene di me Che mi senta importante E incensato Che osa Francesco Pensiamo invece Alla mitezza Un modo Che ci avvicina A Gesù Un atteggiamento Che non è sciocchezza Conclude il pontefice Ma profondità Nel capire La grandezza Di Dio Come È tutto Vi lascio allora Terza pagina Oggi un approfondimento Per restare in tema Di elezioni Sulla democrazia All'indomani dunque Dal voto Per le amministrative Pierluigi Vito Ci offre una riflessione Sul rapporto Tra popolo E governanti Ma anche sul ruolo Dei partiti Oggi Il TG2000 Torna alle 18.30 Grazie per averci seguiti Buon pranzo E arrivederci Buon pranzo